Si torna in campo per il campionato di prima categoria con la seconda fase del post campionato, questa volta il triangolare riservato alle migliori classificate. Si torna in campo dopo il pareggio nella prima fase, nella prima ondata, quando le tre formazioni hanno finito il girone, entrambi con non solo gli stessi punti ma anche con gli stessi gol fatti e subiti. Seconda ondata con il primo confronto con il Campomarino che ha ricevuto in casa la formazione del boys Yelsey Metal Zilembo, si è giocato al Madonna Grande di Nuova Alchiternia invece del Santa Cristina per l'indisponibilità del rettangolo del Campomarino. Pronti via la concentrazione della squadra di casa e vincente al nono Alessandro Silvestri un tiro dai 30 metri, fa secco tardivo che lascia soltanto sfilare il pallone. Segue con lo sguardo il pallone che fa terminare la sua corsa in fondo al sacco per l'Euro goal che dà il via alla partita. Cinque giri di lancette più tardi, quattordicesimo Silvestri Angelo va via in contropiede, salta tardivo in corsa e va a realizzare con il piattone. Il gol del 2-0 sembra fatta per la compagine di casa che al 26esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione di Belpulsi batte e ribatti in area di rigore. Di Vito non riesce a scaricare in rete il gol del 3-0 che però arriva puntuale al minuto numero 30 e Aurelio che guadagna il fondo mette in mezzo un pallone. A rientrare per Ferrante non c'è posizione di fuorigioco e Ferrante va a realizzare il gol del 3-0. Al 38esimo ci prova anche De Cesare in un campomarino che ha tanto spazio lì negli ultimi 16 metri. Il pallonetto del capitano si stampa sul palo e poi termina tra le braccia dell'estremo difensore tardivo. Ancora campomarino al 45esimo con un tentativo l'unico praticamente della prima fase. Con Lepore, estremo difensore della squadra di casa che sotto misura si salva sulla conclusione ravvicinata del difensore Izzo. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa. Uno iersi diverso, quello che va in campo nel secondo tempo. Uno iersi che vuole riprendersi la partita e al quinto all'occasione giusta per un fallo in area di rigore di Di Vito che salta mare su Mascia. Il calcio di rigore viene concesso e calciato male da Marcello Durso che calcia incredibilmente a fil di palo sul fondo. Ma lo iersi ancora in partita e trova il gol che la rimette in careggiata al minuto numero 9. Il cross perfetto dalla destra e da parte di Paranza. La testa vincente è di Mascia che fa secco l'epore per il gol del 3-1 ma il campomarino è sempre lì al 17esimo. Angelo Silvestri ha l'occasione ma calcia incredibilmente male sul fondo. 23esimo Ferrante ci prova con una conclusione in corsa ma non riesce a far centro ma al 31esimo tutti in piedi per applaudire il gesto tecnico di Angelo Silvestri che da 25 metri fa secco tardivo per la rete del definitivo 4-1. Vince il campomarino che batte il Bois-Yelsi-Metal-Zilembo per 4-1 e aspetta i risultati del prossimo confronto. Grazie.